Con la legge regionale 9 del 2019 è stato introdotto in Sicilia il registro dell'identità della pesca mediterranea e dei borghi marinarie, uno strumento fondamentale per la conoscenza e valorizzazione dell'importante patrimonio culturale materiale e materiale strettamente legato alla storia delle comunità costiere dell'isola. Un tesoro prezioso composto dalle strutture urbane, dalle abitazioni dei pescatori, dagli edifici delle tonnare fisse, dagli opifici per la lavorazione, salagione, affinamento e conservazione dei prodotti iddici, dagli attrezzi tipici della pesca artigianale, dai tradizionali metodi di conservazione e dall'universo complesso di saperi tradizionali, miti e leggende, espressioni e celebrazioni rituali legate al mare. Con la legge 9 del 2019 abbiamo voluto valorizzare gli antichi saperi ma soprattutto i mestieri dei pescatori siciliani con le loro tradizioni creando un ponte culturale tra innovazione tecnologica attraverso il portale che metterà assieme i borghi marinari più belli di Sicilia per creare sviluppo, turismo ma soprattutto per evocare miti e tradizioni che la nostra regione ha. È stata anche istituita una commissione di valutazione per inserire anche altri borghi all'interno del registro. L'auspicio è valorizzare ogni borgo marinare della nostra regione e metterli in rete, creare un vero e proprio circuito culturale di tradizioni ma soprattutto fare sì che storie e saperi possano intrecciarsi nei luoghi straordinari e la biodiversità del nostro territorio. L'avere creato questo registro non è l'arrivo ma è la partenza. Noi dobbiamo mettere a sistema i borghi marinari e tutte le bellezze e le preesistenze che la Sicilia ha nel settore della pesca. La nostra conoscenza parte da lontano. Noi siamo dei pescatori nati perché l'isola più grande del Mediterraneo, circondata dall'acqua, ha una storia di pescatori millenaria. Rischiamo di perderla se non la manteniamo, la custodiamo e soprattutto la rilanciamo. Adesso noi abbiamo fatto una prima selezione di 16 borghi marinari, due per ogni flag. Chiaramente tutti i borghi che avranno le caratteristiche previste dalla commissione vorranno tranquillamente fare la domanda successivamente. Il registro sarà comunque costantemente aggiornato perché altri borghi potrebbero essere inseriti? Sì, è un registro che viene praticamente creato in conformità con i principi della Convenzione UNESCO del 2003, quindi la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio immateriale che ci impone una richiesta che viene fatta dal basso, quindi dai detentori dei saperi, dai protagonisti delle tradizioni orali e anche dai comuni, dai sindaci. Per cui sono loro che faranno domanda di iscrizione attraverso il sito internet reimar.it, dove troviamo tutte le informazioni su questi borghi. C'è una sezione proponi in cui chiunque può accedere, può fare una domanda che poi è guidata attraverso dei formulari che vengono scaricati direttamente con un processo quanto più sistematizzato possibile.